...ebbe usato i soldi di Sting per pagare i debiti personali e per tentare rischiose speculazioni, più rischiose di così. Sono i danzatori scalzi di Patrizia Cerroni. Al Teatro Olimpico di Roma interpretano il balletto Hyde ed Eva, ispirato al romanzo di Stevenson, il dottor Jekyll e Mr. Hyde. È l'eterna lotta del bene e del male che si ripropone sulla scena, ma a parlare stavolta è il corpo. Di nuovo in prima pagina con una polemica.